Questo seminario coincide in un momento drammatico della vita del Paese e del mondo. Avrei preferito che questo seminario coincidesse con una congiuntura meno infuocata e meno tesa. Però d'altra parte per quanto tutti noi si abbia il dovere di essere sempre compartecipi dei grandi fatti del mondo e presenti attivamente nei fatti del mondo, la conoscenza rimane sempre più che un diritto, direi addirittura proprio un dovere, un obbligo che ci impone appunto di continuare sempre comunque a lavorare, a studiare, a riflettere. Per cui andiamo avanti con il nostro seminario. Perpignani è famosissimo, non sto qui a ricapitolare la sua filmografia perché è lunghissima e do immediatamente a lui la parola in modo da non perdere neanche un minuto di più. Buongiorno, parlare di montaggio non mi è particolarmente difficile in quanto ormai sono 13 anni che alterno il mio lavoro di montatore a quello di insegnante, di montaggio al centro sperimentale. Però devo anche sottolineare che è piuttosto inusuale per un professionista essere nello stesso tempo anche docente del proprio lavoro e della propria professione. A me è successo proprio di cominciare a riflettere in modo più approfondito sul lavoro e sullo specifico del mio lavoro all'interno del grande insieme di collaborazioni che realizzano poi un film. Mi è accaduto il punto di cominciare a riflettere quando sono stato chiamato ad insegnare e da quel momento in poi ho dovuto in qualche modo pormi delle domande su cosa facevo, su cosa di volta in volta affrontavo e risolvevo, come risolvevo, perché. E poi la grande occasione che non era certamente consueta prima era quella di poter vedere dei film della storia del cinema e rendersi conto che c'era un percorso, un percorso espressivo che era una linea da seguire per riuscire a capire non solo l'oggi ma di volta in volta quello che il cinema ha espresso e dunque individuare il come queste cose si esprimevano. Il montaggio è, nonostante sia un'araba fenice che ci sia, ciascuno dice, ma cosa sia, nessuno lo sa, è effettivamente un'incognita per molte persone. È tanto un'incognita da dover addirittura riconoscere con molto rammarico che anche molti specialisti della cultura cinematografica hanno difficoltà a mettere a fuoco cosa sia in realtà il montaggio, in cosa consista e in cosa consista e come si realizzi la collaborazione tra regista e montatore. perché è molto più facile intuire per chi è spettatore di cinema, ma anche per chi è studioso di cinema, in cosa consista la collaborazione tra un direttore della fotografia e un regista, capire cosa possa essere stato il rapporto tra Tisset e Jesestein oppure tra Golovnia e Pudovkin o tra Greg Tolland e Orson Welles. Molto meno si trova detto in parole chiare cosa è il rapporto tra un regista e un montatore. però a giustificazione di questo c'è anche il fatto che il montaggio è talmente intrinseco alla creazione cinematografica, fa talmente parte, anzi è forse il perno che caratterizza il racconto cinematografico, che si può anche notare che molte delle innovazioni nella storia del cinema, noi cercheremo di individuarlo, nel linguaggio dovute proprio alle intuizioni che si sono poi applicate nel montaggio, sono state messe in atto soprattutto, credo di poter dire, dalla capacità elaborativa dei registi. Guarda caso noi parleremo di Griffith, non parliamo del montatore di Griffith, parliamo di Jesestein, non parliamo del montatore con il quale Jesestein lavorava, o se parleremo appunto di Godard, non ci verrà in mente il nome della montatrice o del montatore di Godard. Tutte quelle innovazioni che noi possiamo notare nel cinema, nella storia del cinema, e che si focalizzano proprio con un nuovo uso del montaggio, con un'intuizione che nel montaggio poi si realizza, lo dobbiamo allo scatto che ha fatto la fantasia, la creatività di un regista. Allora uno diceva, ma perché non chiamate un regista a parlare di montaggio? Non è... c'è da poter dire che certamente anche un regista può ovviamente parlare di montaggio, proprio perché è un suo specifico, però si può parlare di montaggio anche essendo dei professionisti, detti anche secondo una terminologia piuttosto usata dei tecnici, che ormai di tecnico hanno molto poco, perché quando si entra a collaborare a livelli di corealizzazione, di collaborazione artistica, evidentemente tutto quello che c'è di tecnico è una base necessaria, ma assolutamente da accantonare e superare per poter svolgere la propria effettiva capacità collaborativa. Dunque, quello che appunto avevo notato era che la storia del cinema presentava degli scatti significativi nel linguaggio che si individuavano nell'uso che si faceva appunto del montaggio, in quanto poi, prima ancora del montaggio, avendo però intuito a priori, c'era stato tutto un lavoro che predisponeva a quel tipo di montaggio. Yeisester non poteva girare nello stesso modo in cui aveva girato dieci anni prima Griffith, non avrebbe montato i suoi film, né appunto si poteva montare un film come nascita di una nazione se non si fossero girate preventivamente tutte le inquadrature che avrebbero poi costituito il materiale con il quale poi il film si sarebbe realizzato alla fine in montaggio. Ho usato una vera materiale. E' sintomatico e comunque curioso che quando si parla di ciò che si è girato e che arriva nella stanza di montaggio, altrimenti detta moviola, la moviola è uno strumento col quale si lavora, ma poi per estensione del termine si chiama moviola anche la stanza nella quale si lavora, dicevo, quando questo materiale arriva al montaggio si usa a dire che quel film girato prende appunto il nome di materiali, materiali con i quali dover ancora costruire il film. E allora significa che nel girare si deve avere una capacità di individuazione del cosa, non solo del cosa raccontare e di come distribuirlo, diciamo, come ordinamento di avvenimenti da raccontare, ma giustamente bisogna sapere il come raccontare. Il come raccontare implica ancora una volta come servirsi del mezzo cinematografico perché quello che si racconta diventi quello che si vuole comunicare e dunque volersi comunicare una cosa significa ben mettere a punto il linguaggio che si userà. E allora certamente sono diversi quei film che raccontano con una macchina che si muove da un personaggio all'altro in modo continuo costituendo delle inquadrature appunto senza stacchi e chiamate poi piano sequenza. Sono diversi quei film dagli altri in cui invece ogni momento del racconto viene filmato a parte e ricostruito, ma non giusto a posto, ricostruito in una ricerca dell'efficacia espressiva. e dunque sono due modi di raccontare così come un modo di raccontare ancora diverso mettere una macchina fissa e guardare quasi diciamo oggettivamente quello che accade di fronte alla macchina da presa e questo noi ci troveremo a poterlo analizzare nei film che vedremo. Dunque, ecco che il montaggio allora è un momento in cui tutto quello che si è girato e dunque che è stato anche predisposto come ho appena detto però troverà la sua forma nella congiunzione, nell'articolazione e nella verifica di una concatenazione che deve assolutamente raggiungere il suo massimo della realizzazione e dell'espressività e non è certo un fatto meccanico non è certo un prendere la prima inquadratura e metterla dietro la seconda è invece un interrogarsi su cosa è più opportuno come giocare con questo meraviglioso strumento che è l'articolazione del taglio delle inquadrature e della nuova costruzione d'altronde per usare una similitudine diciamo è come se tutte queste tessere dovessero essere messe al proprio posto ma non solo nel caso del montaggio le tessere non vanno al posto in cui dovevano necessariamente essere ma sono una rielaborazione un raffinamento del disegno una messa a punto una scelta delle tonalità e comunque parliamo appunto più che altro di cinema che di pittura però quando vorrei parlare di pittura non è un caso perché io ho studiato pittura tra i 16 e i 20 anni io studiavo per diventare pittore e poi mi è accaduto di imbattermi in un personaggio mastodontico dal punto di vista non solo fisico ma dal punto di vista creativo che era Orson Welles e che mi ha assolutamente affascinato e insieme a lui io ho individuato diciamo ho individuato e riconosciuto in lui quello che mi interessava del cinema e ho pensato che il cinema non potesse e non dovesse essere altro che una forma espressiva a quei livelli allora io farei qualche passo indietro proprio perché adesso ho introdotto questo argomento della pittura del quale parlano molto facilmente i direttori della fotografia spessissimo mi è accaduto di vedere un regista che per chiarire un'immagine un tipo di immagine da creare si riferiscono esemplificativamente a dei pittori per poter appunto chiedere al al direttore della fotografia una un'immagine così come loro l'hanno pensata e per cui corono costantemente i nomi di Caravaggio i nomi di Latour e potete immaginarlo però è curioso perché a me è successo proprio un po' insegnando un po' riflettendo di andare indietro con la fantasia proprio di alcune cose che avevo studiato e e proprio per dare delle risposte agli allievi e a me stesso sono andato a vedere che nel andato a ripescare quella quel luogo comune che si dice che nel con il rinascimento nasce la prospettiva cioè l'uomo si inserisce nella realtà si contorna di immagini della realtà non ci sono più i fondi piatti non ci sono più tantomeno i cieli i cieli d'oro si connotano non solo le personalità ma proprio il rapporto tra uomo e ambiente tra uomo e il proprio ambiente dunque la propria dimensione e questo avviene ancora per un certo tempo con una prospettiva centrale sempre da un punto di vista centrale ma man mano proprio questa voglia di muoversi nella realtà e diversificare l'occhio sulla realtà porta poi i pittori a diversificare il loro punto di osservazione per cui è impensabile all'inizio del 400 un quadro che abbia delle prospettive come quelle di una crocifissione del Tintoretto la macchina Tintoretto l'ha messa a bassa per vedere una croce che si alzava e per avere questa sensazione della croce che veniva issata ha sentito che c'era bisogno di uno scorcio però prima di lui ancora il Mantegna giocava sugli scorci c'era dunque tutto questo per dire che a un certo punto si è cominciato a diversificare il punto di vista e poi è inutile che stiamo a seguire la storia della pittura perché non è quella di cui dobbiamo parlare però questo per dirvi che a un certo punto cominciano proprio con il movimento intellettuale a diversificarsi i punti di vista facciamo un grosso salto e andiamo alla metà dell'Ottocento quando si inventa la fotografia la fotografia è l'altro elemento fondamentale è la madre la matrice sulla quale dalla quale può svilupparsi il cinema quando c'è una scoperta che impressiona che lascia basiti per la sorpresa la capacità diciamo di elaborazione si ferma e torniamo di nuovo alle prospettive centrali torniamo di nuovo allo stupore e dunque lo stupore avviene attraverso un punto fisso centrale che guarda caso le fotografie di tutto un periodo sono delle fotografie che registrano con stupore quello che si era avuto davanti alla macchina fotografica però anche lì immediatamente dopo ci si comincia a muovere ci si comincia a chiedere se la macchina non può essere più bassa non può essere più alta non si può prendere da una mongolfiera non si può a questo punto indagare la realtà con questo nuovo mezzo che è effettivamente entusiasmante raccontare che la proiezione di un breve filmato dei fratelli Lumière di un treno che entrava in stazione ha fatto scappare la gente dal cinema con la paura proprio di essere di essere investiti allora questa rappresentazione riusciva ad essere molto più verosimile di quanto non si potesse supponere supporre allora questo lo si può superare quando così come quando si addomestica una bestia piano piano gli si riesce a far fare delle cose o comunque chiunque abbia soggezione di un di un qualcosa pian piano familiarizzando riesce poi a utilizzarlo e allora il la ripresa cinematografica ci si chiede ha la possibilità non solo di documentare ma sostanzialmente di raccontare e allora il racconto ha una un preciso riferimento come si usa raccontare allora il racconto è raccontorale racconto scritto però i racconti hanno evidentemente un linguaggio hanno delle strutture di linguaggio dunque ci si deve dare delle strutture per raccontare ci si deve dare dei modi che si possono evidentemente andare a ricercare nella consuetudine espressiva e linguistica di altre forme di comunicazione e infatti e infatti questo accade accade prima in modo molto più semplice e semplicistico però si capisce subito che si può non raccontare in continuità può esserci un avvenimento che accade in un luogo e che interessa per una parte del suo svolgimento perché quella è essenziale a quello che si vuole comunicare non tutto non è necessario che si racconti la realtà per esteso allora però così come la letteratura o il racconto comunque insegna si sospende al momento opportuno per andare a congiungere ad articolare insieme a quella parte di racconto un'altra parte che costituisce appunto valore di elemento aggiuntivo di ulteriore di passo ulteriore nel proseguimento del racconto e dunque si innestano altre parti del racconto e così si va avanti prima in modo più semplice schematico accorgendosi però che che è curioso cominciare a giocare con queste dimensioni che sono le dimensioni dello spazio ma sono le dimensioni del tempo e dunque e dunque vedremo come in un film molto diciamo tra i primi della storia del cinema dieci anni soli dopo la nascita del cinema già Porter gioca con queste alternanze e racconta degli avvenimenti proprio proprio con la sospensione di situazioni e la articolazione con altre e ecco che ecco che appunto si ristabilisce la capacità di controllare il mezzo controllare il mezzo significa prima imparare a guidare e poi pian piano andare sempre più spediti e questo in pochi anni in pochissimi anni ma massimo altri dieci durante i quali le scoperte e i tentativi di avanzamento sono stati rapidissimi ci si accorge che il il linguaggio di quella forma espressiva che è il cinema raggiunge dei livelli non sospettabili assolutamente solo dieci o quindici anni o vent'anni prima ancora meno allora sono arrivato ad alludere a Griffith c'è un'altra cosa nel frattempo è successo anche che la macchina da presa non è più frontale non alterna solamente delle situazioni ma si pone il problema il come non essere solo testimone di quello che accade ma parteciparlo allora si scopre per esempio che l'inquadratura larga comunica una cosa ma l'inquadratura stretta ne comunica un'altra pur nella stessa situazione cioè il campo medio o campo largo come lo si voglia definire è informativo ma se si entra nella situazione andando a registrare da vicino i personaggi ci si accorge che si entra in una dimensione diversa si entra nella psicologia dei personaggi nelle motivazioni interne dei personaggi dunque non c'è più un registrare quello che accade ma c'è un cercare di capire perché accadono quelle cose e perché le figure che agiscono agiscono in quel modo e allora ci si rende conto che andare su un primo piano in una certa situazione significa arricchire il racconto arricchire il racconto significa anche però fare dei salti entrare e uscire dalle dimensioni del racconto perché la dimensione di una di una ripresa oggettiva è molto diversa dal 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 senso che ha un'inquadratura stretta dunque se noi si alterna il largo e lo stretto e lo stretto e il largo noi si fa un continuo salto da una dimensione ad un'altra e aver scoperto questo è una cosa fondamentale è fondamentale sapere che si può andare come in un film di Charlie Chaplin su un primo piano dell'omone che fa delle facce strane che non si vedrebbero in totale e capire che è un personaggio che si caratterizza fortemente lui era già caratterizzato già aveva già aveva nella sua nella sua presenza fisica un suo carattere ma certamente con le sue sopracciglia con i suoi baffi quelle sue cose sono maggiorate sono portate ad un massimo di espressività avvicinandosi o andare a vedere l'occhio di sempre per citare Chaplin di quando guarda una persona e poi gli fa l'occhiolino quell'occhiolino nel totale non si sarebbe visto ma nell'andare vicino al primo piano di Chaplin per vedere l'occhiolino si fa un qualche cosa di più non si va solo a guardare l'occhiolino si va ad entrare nel personaggio e da qui ci si rende conto anche che da un certo momento in poi quell'andare vicino ai personaggi consentirà cercare di entrare nella loro non solo nelle loro motivazioni ma nella loro soggettività nel loro guardare le cose e dunque e dunque può accadere che noi spettatori mediati da questo passaggio attraverso il primo piano del personaggio si accetti di vedere dopo di quel primo piano una inquadratura che è come vista da lui ma non c'è niente di più curioso che guardare con gli occhi di qualcun altro cioè è un miracolo allora non solo noi passiamo dal largo allo stretto abbiamo detto che c'è già un salto di 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 modo ma poi addirittura passare attraverso i suoi occhi e vedere con lui e vivere le sue emozioni ecco che siamo andati molto più in là non solo diciamo allora che il questo consente ancora di variare di molto i punti di vista ci si può dunque mettere con una macchina più bassa una macchina più alta giocare con i punti di vista e articolarli tra loro allora però più sono questi punti di vista più riuscire rientrare riuscire attraverso dimensioni che non sono affatto patrimonio della nostra esperienza sono patrimonio della nostra capacità di medesimazione e dunque allora a questo punto io vorrei l'accento su un'altra cosa curiosa dell'esperienza a cosa è chiamato il montaggio il montaggio cioè quel momento che terrà poi insieme tutto questo è chiamato a rendere tutti questi passaggi naturali a farci vivere tutto quello che noi vediamo rappresentato in questa forma come se fosse assolutamente naturale entrare uscire dalle dimensioni di racconto nelle loro diversificazioni approfondimenti nei salti di punti di vista entrare attraverso gli occhi di un assassino e poi essere negli occhi dell'assassinato cioè tutte cose che sono logicamente assolutamente inconcepibili inconcepibili per una per una esperienza unitaria ecco il montaggio così come il cinema lo rende perno della sua elaborazione espressiva e stilistica è questa capacità di tenere insieme il tutto in modo logico in modo accettabile in modo dunque come se tutta questa diversificazione invece potesse rappresentare invece un senso un sentimento di unità allora ma perché accade questo mi sembra di poter dire che accade questo perché il montaggio in realtà che era già presente nella letteratura che è presente nel racconto orale che è presente nella musica eccetera è la diciamo il collante di tutto quello che è ha bisogno di essere ricostruito ma allora facciamo un salto ancora e naturalmente dicevo quello che viene ricostruito poi viene ricostruito secondo criteri che sono che sono estetici che sono strutturali che sono che sono linguistici vabbè però perché tutto questo possa accadere bisogna che la nostra mente abbia queste capacità che la nostra mente abbia la capacità di intendere quella dimensione che viene rappresentata e dunque anche abbia la capacità di articolare e di mettere insieme e di concepire come discorso unitario diversi aspetti e allora ci si rende conto che anche il nostro pensiero è montaggio cioè quando noi guardiamo la realtà e pensiamo di riceverla oggettivamente noi non facciamo altro che riceverla soggettivamente invece ma la riceviamo talmente soggettivamente che l'insieme della realtà che ci è dato conoscere noi la selezioniamo ne assumiamo degli elementi scartandone per forza di cose altri e andiamo a ricomporre dentro di noi un'immagine unitaria che è la nostra personale costruzione il nostro montaggio della realtà che è dunque dare un senso alle cose e allora se il montaggio nel cinema o il montaggio della nostra testa danno un senso alle cose ecco che evidentemente sono assolutamente imprescindibili cioè è un momento dell'elaborazione che è connaturato e dunque quando noi con un po' di esercizio ma siamo poi chiamati ad accettare una proposta linguistica noi lo facciamo con una certa naturalezza certo ci sono limiti culturali che fanno sì che per alcuni sia più difficile ci sono evidentemente delle realtà culturali molto diverse da luoghi a luoghi da persone a persone per cui certamente ci sarà il problema di fare in modo che la proposta linguistica venga accettata nelle sue premesse una volta stabilito come quando si dà il là per una realizzazione musicale che abbia l'apporto e il congiungersi di più elementi di più persone ci si dà un timbro sul quale intendersi e dal quale partire dopodiché il resto però è dato spesso vi renderete conto che la vostra capacità di adeguarvi a un film viene misurata e messa alla prova nei primi pochi minuti due tre minuti eccetera dopodiché voi navigate tranquillamente in quel film pur non avendo assolutamente magari l'esperienza di quel tipo di proposta linguistica dunque c'è molta attenzione da porre nel come si imposta il racconto nei suoi momenti iniziali allora mi pare per questo tipo di di ricerca di un filo unitario da avervelo detto abbastanza semplicemente sempre che sia vero ma comunque mi pare che ci sia del vero o comunque può essere un'occasione per parlarne ma allora quello che adesso possiamo comunque fare è vedere alcuni film in questo in questi incontri e vedere come il linguaggio proprio da quel 1900 895 muove le proprie conquiste di anno in anno quasi perché di 10 anni in 10 anni è più semplice da vedere e dunque si passerà dai Lumière a Porter a Griffith e poi per saltare ai russi e per andare ancora poi ad un esempio se non sbaglio di cinematografia degli anni 30 americana poi c'è un Renoir regola del gioco guarda caso dove il montaggio ha un significato tutto diverso è più interno è più è più nella struttura del racconto e poi c'è un Wells se non sbaglio un quarto potere e poi c'è l'orgoglio di Anderson c'è l'orgoglio eh pensa un po' che bello allora e poi alla fine un Godard per vedere e Maria in Bardo dunque ora il il numero di incontri che noi abbiamo sono quelli che ci sembravano opportuni perché questo percorso venisse tracciato però vi renderete subito conto che l'approfondimento in ognuna di queste di queste esperienze richiede molto tempo che però sollecito voi a fare cioè quello che ho verificato è che il metodo che si deve si può usare per per far diventare una visione di una cassetta una vera esperienza di approfondimento di conoscenza è un metodo semplicissimo è un cominciare a porsi dei problemi laddove dico non si era abituati a porceli d'altronde la nascita della conoscenza nasce proprio dalla curiosità fammi andare a vedere come e dunque vi esorto proprio a guardare i film possibilmente con questo stupendo strumento che è un videoregistratore perché io quando insegnavo prima che ci fossero i videoregistratori al centro sperimentale insegnavo con la moviola avanti e indietro naturalmente non tutti avevano delle copie a disposizione non tutti avevano la moviola e dovevo solo sperare di avere molte ore a disposizione per poter fare questo percorso con gli allievi invece con le cassette per ognuno di voi è facile anzi vedrete che vi verrà molto naturale prendere appunti mentre vede un film si chiede delle cose alcune se le chiarisce altre se le appunta per poi chiederle e diventa un modo per entrare realmente nella dimensione del racconto e dei suoi modi allora se non sbaglio con Mino si parlava anche di quali potevano essere alcuni testi da conoscere e abbiamo ricordato che ce n'è uno che si chiama la tecnica se non sbaglio il montaggio non ricordo più quello quello di Carol Reitz e Gavin Miller una cosa sulla quale io non è che concordi pienamente mi ricordo proprio che sul cinema russo c'è delle castellonerie pazzesche allora uno dice beh vabbè però c'è solo quello ecco vabbè c'è solo quello quello leggete però che comunque e si muove proprio nell'arco cronologico dunque è interessante proprio leggere e conoscere è un libro pubblicato dalla Sugarco di Carol Reitz che è poi il regista inglese di elezione perché è cecoslovacco di origine però voi lo conoscete per il film ma per esempio quel libro è diviso in due parti la seconda realizzata da un certo Gavin Miller e d'altronde ecco che nella seconda parte ci si rende conto che chi gli è subentrato aveva per esempio una maggiore capacità di leggere lucidamente alcuni processi e sembrano più anche più più vere le cose che dice ma comunque questo è utile soprattutto per avere un canovaccio sul quale potersi muovere allora qui adesso c'è dentro una cassetta dei fratelli Lumière ci sono parecchi spezzoni spezzoni proprio perché in realtà erano degli spezzoni erano dei pezzi di pellicola si chiamano spezzoni quei pezzi di pellicola rimasti durante le riprese con i quali si fanno i cosiddetti fegatelli allora per loro sono dei pezzi di pellicola che magari costituivano tutto l'intero caricatore chiaramente però e sono delle registrazioni in tempo appunto reale di alcuni avvenimenti e ci sono situazioni come l'uscita della fabbrica il treno quelli più famosi ed altri eviterei di vedere qui le cose di Mellies perché sicuramente di vederlo l'avrete già viste ma sul montaggio in questo momento e dunque cominciamo a vedere questi e commentiamoli mentre passano vedete questa è una situazione assolutamente registrata nel suo svolgimento se scelta un'inquadratura i personaggi praticamente scorrono davanti alla macchina di presa non c'è assolutamente nessun intervento del cinema se si fosse fatta una cosa così sarebbe stata una classica fotografia inizio secolo dunque nessuna aggiunta di quello di quello che sarà poi il vero specifico del cinema questa è una degli arrivi del treno perché suggestionate all'arrivo del treno l'hanno fatti tantissimi però diciamo che questo è uno ed ecco il treno che effettivamente non immaginandolo su uno schermo grande e non essendo abituati a vedere il treno che viene in avanti si capisce come possa essere successo ma anche qui la macchina come vedete non si sposta c'è proprio la casualità dell'entrare e uscire dallo spazio dal campo visivo che è la casualità appunto tipica di una macchina inchiodata che non anzi addirittura con la rivelazione della macchina messa lì ad occupare uno spazio sul marciapiede che deve essere evitata da chi cammina sul marciapiede stesso andiamo veloci questa è un'altra registrazione anche questa come vedete è macchina fissa questa è una discesa dal battello e non viene neanche proprio la tentazione di dire questi escono a sinistra io la muovo leggermente per seguire c'era proprio la la grande euforia e entusiasmo oltretutto il gioco il gioco in questo caso un po' ironico del fotografo che passa davanti al cine operatore che è che è curioso che è un gioco proprio all'interno della ripresa ecco che tra colleghi ci si saluta ma comunque e poi immagini di Parigi immagini di Londra era una cosa da mandare da usare appunto come come questo è il treno più famoso c'è già un po' più di marciapiede come vedete c'è un po' più di persone e dunque c'è un rapporto di racconto tra il treno e le persone che sono sul marciapiede dunque ci sono quelli che scendono quelli che salgono e c'è però dunque come vedete c'è una prima articolazione proprio del racconto ecco l'oculte di bebé è tradotto in italiano con il bebé mangia la pappa ed è come vedete un'inquadratura che tiene al suo interno il papà la mamma e il bambino al centro tutto il resto è compiacimento di quello che accade di fronte alla macchina da presa e poi c'è il gioco del rapporto tra il personaggio in questo caso il bambino non consapevole della finzione che offre il biscotto a quello che sta accanto alla macchina da presa dunque per primo fa questo scavalcamento della dimensione della realtà rappresentata con la realtà che invece sta registrando comunque e qui ancora come vedete è una scenetta tipica di un di una situazione grottesca ironica burlesca che non aggiunge proprio assolutamente niente al a quello che fa il teatro quello sta uscendo di campo lo prende per l'orecchio e lo ritira in campo cioè c'è c'è la consapevolezza qui per noi oggi sembra un'ironia ma c'è la consapevolezza del fatto che se non sta lì dentro quello non viene ripreso dunque si sa che la macchina da presa non potrà seguire a secondare e andare a cercare delle cose e vabbè gli esempi sui limier possono ancora essere tanti ma come vedete non si possono fare molte considerazioni in più questo è un piano fisso questo è un piano fisso entrano cavalli carrozze si incrociano cioè a un certo punto ci si rende conto che può non essere una cosa troppo semplice ma una cosa più però è sempre affidata alla realtà è la realtà che viene registrata come sapete invece l'atteggiamento il modo di porsi di fronte al cinema di Melies è proprio invece quello di dire ma noi creiamo il racconto teatrale creiamo il racconto cinematografico facciamo in modo che di fronte a questa macchina da presa analogamente a come accade per il pubblico teatrale possa essere invece rappresentato per un pubblico che ha un rapporto analogo con lo schermo come lo ha con il palcoscenico creiamo delle forme di racconto però giocando proprio su quello specifico tipico del cinema che è quello poi di aggiungere elementi cioè non si sta più fermi con un quadro fisso ma invece si può prendere una cosa più stretta e si comincia a diversificare il modo di racconto andiamo più avanti ancora e forse però saltiamo proprio il resto della cassetta a meno che non si possa vedere ci sono anche i Melies c'è anche Melies dopo e vediamo se c'è qualcosa da poter commentare rapidamente ecco qui ormai come vedete macchina fissa le cascate in Svizzera passa la barchetta ne entra un'altra cioè e non si aggiunge niente di particolare dunque o in Spagna io speravo di andare rapidamente a Melies ma non io direi che ci fermiamo qua per quanto riguarda questo tipo di esemplificazione a